Contro il Chievo una vittoria che fa morale? Sì, una vittoria che sicuramente ha fatto bene alla squadra e anche alla classifica. Adesso l'importante è proseguire su questo binario e cercare di invertire anche il trend in trasferta. Poi c'è il derby e lì magari ci sono tutte le speranze dei tifosi, della società che magari dopo tanto tempo si gioca un derby in Serie A e ci tiene a fare bene. Domani c'è il Napoli in piena emergenza difensiva. Sì, il Napoli ha grosse assenze in difesa ma anche il Lecce ha delle grosse assenze in ogni reparto. Munari, Di Michele Acciaccato, Giacomazzi, quindi anche De Canio dovrà inventare la formazione come Mazzarri. Forse è una sfida anche alla pari sotto questo punto di vista come non lo è sotto l'aspetto tecnico. Bisogna vedere se saranno importanti le motivazioni e come il Napoli è uscito dalla vittoriosa partita di Europa League che ha fatto in settimana dove ha vinto soltanto il 93esimo. Saranno le motivazioni importanti. Il mister De Canio ha provato il 4-4-1-1. Sì, uno schieramento molto più accorto rispetto alle ultime uscite del Lecce. Sicuramente, viste le assenze di Munari e Giacomazzi, avranno un'opportunità Coppola e Grossmuller che magari in quest'ultima parte della stagione non hanno avuto grandi possibilità di esprimersi. In attacco penso sia da inventare perché c'è Di Michele che probabilmente verrà risparmiato in vista del derby perché è sotto squalifica. Quindi forse ci sarà un'occasione per reintegrato Corvia e per Geda che è stato davvero poco utilizzato. Credo che sia confermatissimo Ophere che è in grande forma. Di Michele parlava di quota 18 fino alla fine del girone d'andata. Il Lecce può farcela? Beh, può raggiungerla tranquillamente attraverso la vittoria augurata e sperata nel derby. Ma può anche fare di più se nelle due trasferte difficilissime di Napoli e Roma contro la Lazio riuscirà magari ad ottenere un pareggio e perché no anche una vittoria. Giusto per invertire anche questo trend negativo in trasferta dove è raccolto soltanto un punto nella trasferta di Palermo pareggiata 2-2. Quindi anche domani saranno piatti d'oro? Beh, piatti d'oro non saprei. Potremmo anche accontentare di piatti d'argento. Basterebbe un assist o anche un solo goal che però possa portare a casa i tre punti o anche un punto al San Paolo. La senti di azzardare un pronostico? Io firmerei per un pareggio. Diciamo che un 2-2 spettacolare sarebbe un bel modo di chiudere l'anno con magari un goal di Corvia e un goal di Ofera.